Il premio che ha vinto l'Oscar, l'Oscar dei film alta insieme a ovviamente al grande Rocco 500 film, lei ha fatto? E lì? C'è? E' arrivata? Vieni! Carolina Schein! 500 film! E ovviamente ha vinto l'Oscar con Rocco Io però mi ricordo che ho lavorato con lei quasi 500 film fa Eh, quanto tempo? Eh, puoi dire? 14 anni fa 14 anni fa, però sei sempre bellissima Sempre molto bella, molto professional Grazie tanto Grazie, grazie, grazie Sono finiti i premi, questi ragazzi volevano vedere squirting Sì, è vero o no? Questo è l'ottico che... Vuole fare vedere sesso E' stato istruito, voglio dire, per la sorpresa di Corrales Perchè? Come no?